Sono 70.000 persone che hanno la maglia indosso del Bayern Monaco o a Borussia Dortmund oppure in Inghilterra. Noi dobbiamo, se vogliamo crescere, fare in modo che questa parte commerciale, questa parte poetica del calcio, cioè quella dove tutta la famiglia va allo stadio e ci va con la maglia del club, venga aiutata. È aiutata anche nei falsi che ci sono in giro ancora perché continuano ad esserci i falsi in giro, continua ad esserci qualche cosa della cultura italiana dove l'originalità della maglia deve essere per tutti allo stesso modo e invece abbiamo ancora delle grandi differenze.